Giocando in casa, l'icona sportiva della Nissan si pone alla ribalta sul palcoscenico del Tokyo Motor Show. Stiamo ovviamente parlando della GTR, il cui Model Year 2014 si caratterizza per un maggior comfort e una qualità decisamente superiore nelle finiture, a esaltare lo spirito da gran turismo senza rinunciare alle performance. Aumentata la rigidità della struttura grazie alla selezione accurata dei materiali per ogni singolo componente e ridisegnati gruppi ottici anteriori multi-led con Adaptive Front Lighting System che modifica il fascio di luce in base alla velocità. All'interno spiccano il volante rifinito totalmente in pelle e nuove cuciture a vista per i sedili in pelle. Nissan ha presentato anche la versione targata Nismo della stessa GTR che sarà lanciata in Giappone a fine febbraio 2014 e dentro la fine dell'anno anche in USA e Europa. Sotto il cofano di questa versione speciale batte un possente V6 3008 da oltre 600 cavalli.